Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi, in A1 è un'uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna. Sulla Firenze Mare, tra Prato Ovest e il Bivio 11 a 1, e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tutto verso Firenze e in Fipili verso Firenze, per lavori tra Montelupo e Ginestra e per traffico tra la Strassigna e Firenze e Scandicci. Per le statali ricordiamo le chiusure per lavori sulla statale 67 all'altezza di Compiobbi nel comune di Fiesole, tutti i dettagli sui nostri canali social. In chiusura per il traffico urbano di Firenze, per lavori, segnaliamo restringimenti tra Via Canova, Argingrosso e Santa Maria Cintoia, fino al 26 luglio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!